L'Associazione dei Leonisicani compie dieci anni di attività. Domani sarà una data storica per la squadra di hockey su carrozzina della Valle del Belice. Proprio dieci anni fa si apprestava a nascere una realtà sportiva che è riuscita a coinvolgere non solo tanti ragazzi con disabilità motoria del comprensorio, ha anche portato lustro a tutto il territorio grazie a dei sorprendenti risultati sportivi e sociali. In questi giorni, tramite i social, i Leoni hanno invitato i propri follower ad inviare dei videomessaggi di auguri che saranno mandati in onda in una diretta speciale organizzata proprio mercoledì sera a partire dalle 21 sulla pagina Facebook Leonisicani Onlus. La serata vedrà la partecipazione di alcuni protagonisti di questo decennale che rivivranno ricordi ed emozioni di alcuni momenti storici, dalla prima promozione in A1, datata maggio 2012, al titolo di vice campione d'Italia nel 2014, passando per le partecipazioni ai tornei internazionali di Varese nel 2015 e in Olanda nel 2017. Nello stesso anno l'incontro con Papa Francesco, fino ad arrivare alla risalita in serie A1 della scorsa stagione e l'inaugurazione del Barbera Center poco prima del lockdown, il primo campo di power chair hockey in Italia all'interno di un'area sportiva polivalente senza barriere architettoniche realizzata a Santa Margherita di Belice. Francesca Massimino, presidente dei Leonisicani fin dal 2010, spiega avremmo voluto organizzare un grande evento pubblico per festeggiare questa data importante, ma non è stato possibile a causa della pandemia. Si è optato così per una diretta online dalla propria pagina Facebook per festeggiare assieme a tutti i tifosi. La responsabile dell'associazione ricorda infine che si può sostenere questa realtà sportiva siciliana destinando ai Leonisicani il 5 per 1000 della propria dichiarazione dei redditi. Farlo non comporta anche un costo, ma rappresenta per questi ragazzi una forma di sostentamento fondamentale per sostenere le loro attività.